Onorevoli, cari colleghi, cari colleghe, questa è la mia ultima sessione come Presidente del Parlamento europeo. Grazie. Grazie per potervi parlare da questo podio. Cinque anni fa alla mia elezione di Presidente io dissi che il mio obiettivo sarebbe stato quello di rendere il Parlamento europeo più udibile, più presente, con più influenza. Cinque anni dopo posso dire che questo siamo riusciti a farlo insieme. Il Parlamento europeo oggi è più visibile, più audibile e ha più influenza che mai. Negli anni passati siamo riusciti insieme a rendere il Parlamento il luogo della democrazia europea. Qui, in questo consesso, hanno luogo i dibattiti più importanti. È qui che si prendono delle decisioni che rendono migliore e più sicura la vita delle persone. Con il processo dello Spitzenkandidat, il Parlamento europeo e noi siamo riusciti a rendere l'Unione europea più democratica, a far sentire di più l'influenza dei cittadini sulla politica dell'Unione europea. E' così che noi abbiamo rafforzato la nostra democrazia transnazionale, la quale oggi però è a grosso rischio. Dappertutto sul continente europeo i separatisti e gli ultranazionalisti si fanno sentire. Quelli che aizzano le persone le une contro le altre, sono quelli che vogliono smantellare il modello liberale, sociale ed ecologico, mettendo a repentaglio uno dei successi di civiltà più grandi mai avuti sul nostro continente. Io con tutte le mie forze mi opporrò sempre, anche in futuro, a questo odio, indipendentemente dal ruolo che ricoprirò. Perché è nostro dovere opporci a queste tendenze distruttive, indipendentemente dalla nostra funzione. Onorevoli, signore e signori, il Parlamento europeo con i suoi 751 deputati provenienti da 28 Paesi sovrano, che rappresentano 508 milioni di cittadini e cittadine, il Parlamento europeo è un'istituzione unica. Essere il Presidente di questa istituzione è stato per me un onore straordinario e di questo sono immensamente grato. Io certamente non sono stato un Presidente facile o comodo per questa Aula, però mi sono sforzato di fare del mio meglio e di lottare per la causa europea, affinché le persone e i popoli superano i divari, affinché tutti insieme si possa fornire un contributo per un mondo pacifico. Il mio successore, io auguro di avere fortuna e di avere la forza di portare avanti le cose nel modo migliore. Noi non dobbiamo cedere in questa nostra voglia di rendere migliore l'Europa, che si proietta anche verso l'esterno, che dà fiducia a coloro che l'hanno perduta. Il fatto di concedere ieri il premio Saccharov è stata un'esperienza importantissima. Noi, ai nostri figli e ai nostri nipoti, dobbiamo dare un'Europa che sia all'altezza di tutte queste loro speranze. Quindi, con grande umiltà, io vi ringrazio per questo lavoro che abbiamo svolto insieme negli ultimi cinque anni. Grazie. Grazie. Grazie.